Eurart 95 manifestazione di pittura grafica e installazioni si è tenuta alle carceri del castello dal 16 giugno al 9 luglio scorso. L'assessorato alla cultura del comune di Gorizia ha accolto così la proposta dell'associazione culturale Graffiti presieduta da Paul David Redfern in un'ottica di attenzione artistica. Qui siamo alla presentazione della manifestazione. Eurart è stata una manifestazione internazionale che ha raccolto attorno a sé artisti italiani, sloveni, austriaci e croati con opere di grande effetto. L'obiettivo? Fare di Gorizia un luogo di incontro e unione sia di artisti che di cultura. Eurart deve essere vista come il punto di partenza per un inserimento europeo necessario se non indispensabile per la città. Si sono così accostate fra loro forme visive diverse a testimonianza che l'arte non conosce né barriere né confini. Grazie a tutti.